Una notte dedicata alla poesia sullo stile delle iniziative parigine, l'eredità della provincia di Bari è simbolicamente racchiusa nella targa scoperta nel cortile dopo l'esibizione dell'orchestra giovanile di Molfetta. Solo l'uomo colto è libero e scritto. Parte così la quarta edizione della Notte Bianca della Poesia che ha chiamato a raccolta 200 poeti e 30 case editrici. Il presidente Schittulli, da padrone di casa, accoglie il rettore Uricchio e i direttori di tv e giornali chiamati a moderare incontri sul valore della scrittura e sulla crisi dell'editoria. In Puglia sono più o meno 300 gli editori, dice Luciano Pegorari. Nell'incontro moderato dal direttore del TG Norba Enzo Magistà molti devono fare i conti con un mercato sempre più difficile. Eppure la voglia di poesia non diminuisce né prova il concorso letterario della Lega Italiana per la lotta ai tumori. In finale sono arrivati cinque pugliesi e un napoletano, mentre nella sezione racconti sono tutti e tre pugliesi. Scrittori agli esordi e autori indimenticabili, come Gabriele Garcia Marquez, a cui è stato dedicato un omaggio in parole, musica e danza nel colonnato della provincia.